buongiorno a tutti giupini e giupina benvenuti o ben ritrovati sul mio canale che cosa realizzeremo insieme oggi domandona che non sta a fare niente perché l'avete già visto dalle immagini di copertina comunque in questo video andremo a realizzare insieme questo simpaticissimo personaggio se volete vedere altri personaggi mi raccomando lasciatemi un commento qui sotto al video io vi lascio il tutorial un bacio a tutti ciao ciao abbiamo realizzato la prima parte del nostro schema a questo punto all'interno posizioniamo un dischetto in cartoncino e adesso continuiamo con lo schema scritto ciao 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 ciao